La Reganatese spreca la ghiotta opportunità di accorciare le distanze sulla capolista notaresco dal possibile meno 2, i leopardiani scivolano a meno 5. La formazione di Federico Giampaolo è stata travolta in casa da una vastese perfetta e cinica che ha avuto un approccio alla partita da grande squadra. È finita 2-4 per gli aragonesi che hanno ribaltato lo svantaggio con cui erano andati a riposo grazie al decimo gol stagionale di Manuel Pera. I padroni di casa hanno avuto la colpa di non aver chiuso la partita nel primo tempo, soprattutto dopo il vantaggio iniziale arrivato alla mezz'ora, ma dopo che gli ospiti avevano comunque avuto quasi sempre in mano il pallino del gioco. Pera è stato bravissimo a sfruttare un cioccolatino servito da Borrelli che, pur non essendo al top, ha provato a suggerire il gioco offensivo. L'area canatese ha pagato pesantemente anche l'infortunio di Senigallesi, uscito per noie muscolari dopo appena 10 minuti e Dodi, entrato al suo posto, non ha saputo incidere sulla fascia. I biancorossi ospiti hanno presidiato a tratti bene il centrocampo con Cavuoti ad operare dietro il duo esposito Dos Santos. Proprio Dos Santos, al 37esimo, chiederà il penalty per un braccio largo di ficola. Il tocco è netto, il rigore ci poteva stare. Padovani in contropiede si allunga troppo il pallone, mentre poco dopo è Lombardi a sbagliare. Re canatese che potrebbe raddoppiare al 41esimo con Nodari, ma la sua è incornata e bloccata da Bardini. In avvio di ripresa i padroni di casa danno subito l'impressione di essere rimasti negli spogliatoi. Al quinto Francesco Esposito pareggia i conti. Quattro minuti dopo, palla persa in malo modo in uscita dai locali con Vittorio Esposito che non perdona per il sorpasso aragonese. Ancora il furetto bianco-rosso al sedicesimo con un tiro chirurgico, 1-3 e doppietta personale. Reazione giallorossa nel tiro di Pera da fuori che Bardini neutralizza in corner. Gara in ghiacciaia per la vastese al ventesimo quando ancora il capitano, Francesco Esposito, anche per lui una doppietta colpisce una recanatese lunga, sfilacciata e disattenta. Il solito Pera ci prova ancora al ventisettesimo di testa, ma l'estremo ospite chiude la saracinesca. Poco dopo la mezz'ora, fari accesi e pioggia battente sul Tubaldi, c'è ancora il tempo di registrare la rete del subentrato Pedroni che inchioda il risultato sul 2-4. In casa leopardiana i rimpianti sono tanti, in quella vastese c'è ora la consapevolezza di essere diventati finalmente una grande squadra. Sono stati 14-15 minuti di ordinaria follia perché non si può prendere quattro gol in casa in 18 minuti. La partita siamo andati in vantaggio, abbiamo un po' sofferto, però la tenevamo sempre in bilico. Abbiamo avuto due o tre occasioni per metterla in ghiacciaia e chiudere la partita. Purtroppo se non fai gol poi la tieni sempre lì, può succedere qualcosa. Al secondo tempo non siamo rientrati per 20 minuti, per cui il discorso è questo. Perché la vastese ha dei buoni giocatori lì davanti, però non puoi prendere assolutamente quattro gol. Perché anche sull'1-1, il 2-1 la partita la tieni, c'erano ancora 30 minuti che si poteva giocare, si poteva rimediare. Siamo andati blackout totale. È la prima volta che succede da quando sono qui. Come sta Senigalliesi, mister? Senigalliesi aveva qualche problemino, spero che non sia uno strappo, spero che sia uno stiramento, però vediamo martedì la sua identità di infortunio com'è. L'ultima cosa, Borrelli noi l'abbiamo visto in condizioni strepitose molte volte, oggi non era al 101% come al solito? Sì, perché Borrelli in settimana aveva preso una botta al ginocchio, con lo staff medico siamo riusciti a recuperarlo, perché Borrelli è un giocatore che se sta anche al 60% può essere determinante. Poi alla fine giustamente l'ho sostituito, ma l'idea era quello di mettere in ghiacciaio la partita sul 2-0 e poi farlo riposare. Purtroppo poi nel secondo tempo c'è stata questa disfatta generale, ne prendiamo atto. Sapevamo che dovevamo costruire qualcosa di importante, ci voleva tempo, poi i cambiamenti di fine mercato hanno rimesso tutto in discussione, quindi abbiamo deciso di rallentare per cambiare le cose e comunque guardare sia il risultato, però c'erano cose più importanti da vedere, gli equilibri di spogliatoio, gli equilibri tattici, gli equilibri dell'ambiente intorno allo spogliatoio, perché aiuta molti ragazzi. Io credo che con questa pazienza che abbiamo avuto in quel momento, grazie alla società che è stata molto paziente, soprattutto dopo le sconfitte, questo ci dà lo slancio per costruire quello che poi è stato chiesto a luglio, quindi oggi dobbiamo risalire, questa è la cosa più importante. Che non meritavamo, non ci stavamo a stare sotto, che avevamo tenuto bene il campo e avevamo limitato molto bene Pera in tutte le occasioni.